Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Bassetti oggi è a Tagadà in televisione e parla di fiumicino, episodio sconcertante, ci hanno rovinato. Di che cosa sta parlando oggi? Dice attenzione al lockdown psicologico, bisogna tornare a vivere. Matteo Bassetti ha lanciato questo avvertimento sulla 7 nel programma Tagadà, lui infettivologo genovese del San Martino. Spiega che le persone hanno paura di prendersi il covid, di uscire, di tornare alla vita di prima. Hanno visto quello che abbiamo passato tutti negli ultimi due anni, le code, eccetera eccetera, delle ambulanze. Bassetti però, come già ribadito altre volte, nei giorni scorsi ritiene che il virus o virus, come direbbe Di Maio, di oggi non sia affatto lo stesso di due anni fa, grazie ai vaccini ovviamente, dice. Abbiamo ampiamente depotenziato il covid, almeno nei vaccinati con due e tre dosi. In quel caso siamo di fronte a un qualcosa di molto più leggero, come si vedeva nel 2017-2018. Da qui è un appello, dobbiamo ricostruire la coscienza degli italiani, dicendo se vi siete vaccinati, mantenete ancora le misure che conosciamo, ma tornate a vivere, a fare quello che facevate prima. Quindi ricostruire la coscienza degli italiani. Sembra qualcosa di fantascientifico, no? Dobbiamo ricostruire la coscienza. Vedete quei film con Tom Cruise dove lui sogna ma vive delle altre vite, no? Dobbiamo ricostruire la coscienza degli italiani. Vabbè, a parte i riferimenti cinematografici, teatrali, Bassetti poi parla di un episodio visto da vicino, dice ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Due settimane fa sono andato a Roma e sono rimasto sconcertato dall'aeroporto di Fiumicino, che era deserto di domenica. Un aeroporto deserto, i ristoranti deserti, le strade deserte, non sono un bel messaggio per il ritorno alla vita. Secondo lui il festival di Sanremo avrebbe aiutato molto da questo punto di vista. In che senso avrebbe fatto il festival a Fiumicino all'aeroporto? Dice da Ligure, dico che noi come Liguria abbiamo dato un grande messaggio. Quale? Quale un messaggio? Quello del ritorno alla vita. Ah, festival di Sanremo e Liguria. Lui da Ligure dice noi, noi, popolo Ligure, abbiamo dato un grande messaggio con il festival di Sanremo perché il festival ha fatto rivedere quella italianità che avevamo perso. Il poter stare in un teatro insieme, le strade affollate, i ristoranti pieni. Speriamo che questo messaggio parta proprio dalla Liguria, dice l'infettivologo, che non vuole essere chiamato virologo. Quindi non è una virostar ma è un infettistar, una star medica infettivologa. Vabbè, noi fino a prima del 2020 non sapevamo neanche che esistesse un medico che si potesse chiamare virologo, infettivologo. Adesso siamo tutti, l'Italia è fatta da 60 milioni di medici, come quando c'è la nazionale, l'Italia ha 60 milioni di CT, commissari tecnici. Nel caso della pandemia ci siamo tutti laureati su Google, no? Io so, tu sai e egli sa, noi sappiamo, voi sapete, essi sanno. Mentre essi sanno, dice ma chi? Essi? Di chi volete che parlo? Parlo di essi. Matteo Salvini, cambiando argomento, il leader del carroccio, dice chiamerò Giorgia Meloni, anche se mi insulta. Povero Salvini, c'è la Giorgia che lo insulta. Aiutatelo, confortatelo, mandategli un sms, no? Matteo siamo con te, la Giorgia ti insulta, non ti fa ricondizionare. Dice la chiamerò nonostante gli insulti, dice Matteo Salvini, leader indiscusso della Lega Salvini Premier, ha rivelato che sentirà Giorgia Meloni, ma lui dice non so quando e non so come, ma la sentirò. Dice che sono sparito, ma non è vero, sono a casa, sono positivo, faccio la pizza, mangio le arance, un po' di Nutella. E lui ha detto così, Giorgia Meloni dice che sono sparito, ma non è vero, ero a casa, ho problemi. Eh, in realtà lui è positivo da poco. Ai tempi delle elezioni di Mattarella, lui era in giro per Roma, andava dalla sinistra a mettersi d'accordo con Mattarella, poi è sparito. Sparisce. Chi l'ha visto non si sa. Nei giorni scorsi la fondatrice di Italia, di Fratelli d'Italia, si era detta stupita, se non dispiaciuta per il comportamento di Salvini, che potremmo definire un po' un po' maleducato nei confronti della signora. Ecco, dice mi ha detto, dice la Meloni, sto salendo e non l'ho visto più, non mi ha nemmeno più chiamato e non è la prima volta che lo fa. Ecco, il Salvini fa le Quirinalate e poi sparisce. È come quello che suona i citofoni e poi scappa. Ah già, lui li suonava i citofoni, me l'ho dimenticato, scusate. Non era un'allusione alla citofonata di Bologna, nel senso, avete presente quelli che suonano i citofoni e poi scappiamo, scappiamo? Ecco, lui va a prendere gli accordi con la sinistra e poi sparisce. Dice, boh, non so niente. È sparito. Dice, non è la prima volta che fa così. Non mi ha nemmeno più chiamato. Certo, gli ha detto sto salendo nel tuo ufficio, sparito. Va a prendere accordi per eleggere Mattarella, sparito. Cioè non si riporta neanche con l'alleato più importante che c'è nel centro-destra, lui non fa le cose e non ha neanche l'accortezza di telefonare, di dire guarda ho fatto, ho detto, non ho potuto fare altrimenti. No, è semplicemente sparito. Come io avevo un amico che ho cominciato a litigare per telefono, ma neanche litigare, a dirgli le cose come stanno. Lui che era uno senza attributi, ha chiuso il telefono, non riusciva ad affrontare la conversazione. Richiamo subito, risponde sua mamma. Dopo dieci secondi, e non c'è, è sotto la doccia. Dice, cacchio che velocità, sotto la doccia. In dieci secondi è già sotto la doccia. Ecco, persone senza, eh, senza quelle. Le ho conosciute anch'io, persone che spariscono perché non riescono a metterci la faccia, non hanno il valore di assumersi le responsabilità di quello che fanno, e allora spariscono. Arrivederci a tutti e grazie.